Eccidenta tua madre Ma leccami il cazzo beduino di merda Che ti ha ucciso? Boh, è pieno di beduini, non lo so, uno col turbante di sicuro Ora ho minuto a pigliare le granate pomogene anch'io A curiaggiare in giro da qualche parte ammazzo gente Abbiamo perduto l'obiettivo d'ora Qua dove stanno sti infami? Ma qua, sono neri come il ponte A meno gli schiavi neri nel mezzo al cotone li vedi Porco due Ma questi sono beduini neri nascosti sul nero Infami di merda Poi venite sul rango o restate sul coso? No, poi si viene, si viene Tanto se no qui a finì che finisco la serie Direi che ho spupo un polmone, forse ne cazzarmi Tanta che ci vuole Boh, si sta perdendo come delle merde, scherzo Ah, fanculo Mi farò una libera intanto Eh, Gesù, c***o Guarda qui La fine che fai io Ehi Ok? Che c***o? Ma cosa? Guarda dove sono finito Cosa? Ma come? Ma facendo cosa? Ehi, giochi soldi Ma a mirare Giro un attimo Ahahahahahahahahahahahahaha Ma che ti... Ma quella... Aspetta, provo anch'io Vino la foglia Dopo... Fa in modo di cadere sul tendone Che barba che sei però eh E' attiva ragazzi No Perché siete tutti morti ragazzi? Perché ancora non sono entrati Mi sa che devo fare un alt F4 Chi? Io Perché? Perché non riesco a farlo fatto al tab e niente, cacciano tutto Allora, walk boy Stai cacciando tutto Sponiamo su Yopo Reri, forse ho trovato i bug della pistolina Che bug? Non devi mirare I colpi vanno dritti Ah, non rincula Che? No, mi sembrava da dritto uguale Smetti della pistolina Stavo facendo un po' di prove Cosa? Mi aveva messo mano in fucile con una mano sola come se tensi la pistola Tipo Dave, non bevi alla fontana Ma vaffanculo con questa nebbia di merda Non ci si vede un cazzo di io Ma in me Che palle, c'è questo fumello di cazzo Capito che siamo a Londra Ma non ci si vede un cazzo di lui Cosa è a Londra? Qua siamo a Londra Ma perché? Perché c'era niente Prima quale mondiale a Londra Che il terra non ha partecipato, vero? Si che ha partecipato, ma non mi pare sia un battuto a Londra Ecco me no No, no, non mi pare Niente tre Ma va Nella seconda si, ma nella prima no Nella seconda ci erano i bombardamenti Merabba Questi ci sono gli alleati che stanno in casa insieme ai nemici C'era il pianofello degli alleati, ho salito le scale e son morto accoltellato da due Sì 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 No 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 No, potevo arrivare al grado 1 della classe d'assalto, poi sblocco il fucile che mi piace Porca puttana Sai qual'è quello bello? Locomatic Eh vabbè Il fumello Il fumello E rinasco E vieni in bocca uno con la vaionette Ma stai zitto coglione Ma vaffanculo vaionette Mi giro o non c'era nessuno? Mi giro AAAAAA Ma io mi abbestata Che l'ha fatto? Ma dai rieni? No poi c'è gente Guardalo Baionettomani Hai ammazzato? C'è nessuno lei, sono sentito Eh porca puttana mi hanno ammazzato la baionetta Non c'è nessuno? Sono da qualche parte perché Eccolo Vaffanculo Eh sono due Annaggia Ma che cazzo rianimo? Su me a medio Eh Ho sponato nero Eh Altro nero Siamo morti fumellati da tutti Eri da me Eccoci Vai Se fai il cannone no? Eh Proviamo agli alleati Nooo Si è quasi ribaltato Eh 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 vabbè Sa che questo il fumello l'ha fumato lui però Aspetta Ma è meno una volta Uh c'è una cattedrale Vai lì e distruggi la madonna Nooo Eh Ieri l'ho distrutta una io È pieno di gente e stai fermo Oh santa merda Eh Sono morto No no ma che sono morto Sono morti loro o altre? Eh Sono morto io o altre Madonna Sto faionetto Dio moro Che palle Ti vengono in bucca Ehi 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 sotto Vai lì sotto Oii Grazie per me l'edetto era sotto Eh E ora ho affacciato la finestra e mi sono arrivato addietro Che ci fare? Dovresti mi guarda dietro Fa una posta dai Vieni Vieni Cosa è il cannone? Eh vai Andiamo in questa cassettiere Adesso stai andando Madonna mia Che sta andando così veloce Eh sei io Ah ecco Cosa vuol dire ecco? Eh sei io Senti lì Madonna 34 di vita Addio Non è un caro rimasto questo eh Sento già l'odore di cimitero Oh santa merda Eh io non vedo assolutamente niente In che s... Eh dietro dietro Eh dietro dietro C'è la fotografia a carrozzeria che mi rende ma merda Oh e poi cidete Eh sì Cioè Io ero dal lato dove non vedevo assolutamente niente Quindi non è che cambiava molto Ma non è che... Non è che sulla cannetta quella di 360 No assolutamente E tornato vieni Allora ma sono tutti quattro Prima vieni qua E vieni su F2 E vai Ciao con muri Tanto mi hai si fa danno Eh? Si riuscì a impennare anche la macchina Che cazzo c'era? Ma quello è un carro vai via! Che senso è un carro? È un carro! Non ho capito È un carro? Io non ho capito Io non ho capito Oh Si fissi in mecca di Yuri Ah non si esce! Si si fa così Si si fa così Si fa così No dai Vieni Gio Ti va Tornati Come Ho paura Siamo Abbiamo No Bambino I C'è 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 Grazie a tutti.